In occasione dell'anno santo straordinario della misericordia, la Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro sarà in pellegrinaggio domani, 22 ottobre, a Roma, con oltre 1500 persone provenienti da tutte le zone pastorali in cui è suddivisa la Diocesi. L'appuntamento per i partecipanti, rigorosamente organizzati in gruppi, è previsto in Piazza San Pietro alle 7.30. Dopo l'udienza generale con il Santo Padre alle 9.45, i pellegrini diocesani entreranno nella Basilica di San Pietro attraverso la Porta Santa e da lì si sposteranno verso la Porta della Preghiera, uscendo verso Piazza Santa Marta. La Gendarmeria Vaticana li accompagnerà alla Grotta di Lourdes, nei Giardini Vaticani, dove l'Arcivescovo Riccardo Fontana concelebrerà la Santa Messa assieme a tutti i sacerdoti diocesani intorno alle 12.00. Un'occasione speciale per vivere insieme in comunione il Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco, che intende richiamare la Chiesa alla sua missione prioritaria di essere segno e testimonianza della Misericordia in tutti gli aspetti della sua vita pastorale.